Ciao, sono Vanessa e ti do il benvenuto in questo nuovo video e sul canale YouTube Van Education. Oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero la didattica creativa. Infatti, sono proprio qui per mostrarti come creerò del materiale creativo per i miei bambini. In particolar modo vedrai un paio di raccoglitori, chiamate anche agende, in cui intervallerò diversi tipi di esercizi. Infatti, lo scopo in particolar modo di questi tipi di raccoglitori è quello di raccogliere tutta una serie di attività che magari il bambino ha già acquisito e che in questo particolar modo utilizzerà del materiale diverso da quello a cui siamo solitamente abituati, per potersi allenare e per poter fare in autonomia, quindi anche da solo senza necessariamente l'aiuto o il supporto di un adulto, poter quindi allenarsi, ripetere, ripassare degli argomenti, delle abilità che magari ha anche già acquisito. Oppure ci sono delle piccole attività leggermente più sfidanti, il che significa che magari sono sempre state eseguite fino a magari un certo numero per quanto riguarda matematica oppure fino a un certo livello per quanto riguarda un altro tipo di esercizio, ma non si è mai fatto quel saltino in più e quindi ho deciso di proporre attività di diverso livello in modo tale appunto da non essere né troppo facile e quindi troppo noioso come esercizio, ma nemmeno troppo difficile da appunto non riuscire a farlo o a terminarlo da solo. Quindi iniziamo subito, vi mostro un pochino di cosine, ma intanto che vi mostro anche già un po' di attività che sto realizzando, quindi per creare questo mix di agende e di raccoglitori, ci tenevo tantissimo a dirvi che noi siamo abituati solitamente, allora maggiormente nel passato, però comunque anche nel presente e devo dire che abbondano, le schede, quindi siamo abituati alle classiche schede in bianco e nero, alle fotocopie, ai libri che comunque ripropongono sempre gli stessi tipi di attività, che sia italiano o anche una lingua straniera, quindi ci sono sempre delle attività che prevedono magari la scrittura, la lettura, degli esercizi abbastanza magari meccanici piuttosto che automatici, ma non aiutano mai a sviluppare, o non sempre diciamo, a sviluppare anche quella parte più creativa, più di logica, più di problem solving, che poi in realtà sono quelle richieste dalla vita, cioè nel senso riuscire a risolvere una specie magari di rompicapo o di attività differente, anche con materiali diversi, ci aiuterebbe insomma a sviluppare un tipo di pensiero anche più critico, e soprattutto anche a imprimere di più nella memoria un determinato argomento, cosa che invece magari con la semplice scheda o fotocopio in bianco e nero non si riesce a fare, in più io trovo che la fotocopia in bianco e nero sia molto spesso standardizzata e quindi non realmente personalizzata per le abilità dei bambini, quindi va benissimo utilizzare schede, fotocopie, libri, quaderni, dal momento in cui vogliamo allenare ad un'abilità che è già stata acquisita, ma io trovo che sia più funzionale, più pratico, ma anche più divertente insegnare attraverso un materiale di tipo creativo, che cosa intendo per materiale di tipo creativo? Allora intendo innanzitutto che invece di spiegare come una sorta di tavola rasa o di lavagna nera o di scatolone da riempire, quindi invece di insegnare con questa modalità per cui io sono l'insegnante che ti istruisce, ti dà delle informazioni, delle conoscenze e tu le immagazzini all'interno della tua mente, io trovo che sia molto più efficace utilizzare un metodo in cui il bambino è più attivo, fa esperienza di un determinato tipo di argomento e facendo un'esperienza ovviamente è necessario un tipo anche di materiale che sia più interattivo, più coinvolgente, dove il bambino effettivamente fisicamente magari sposta delle tessere piuttosto che abbina, piuttosto che categorizza o fa magari un esercizio in maniera inversa rispetto a quella che potrebbe essere la fotocopia e già lì stiamo imprimendo maggiormente nella sua mente in maniera però ludica e divertente quindi attraverso le emozioni positive, perché io penso che per insegnare e per imparare sia sempre necessario avere come elemento base, come ingrediente l'emozione positiva altrimenti attraverso l'emozione negativa difficilmente il bambino apprenderà oppure per paura magari al momento lo imprime nella mente per poi dimenticarlo totalmente, anche perché la nostra mente vuole abbandonare determinate emozioni negative quindi aver provato quella cosa che mi crea disagio insomma il corpo la vuole allontanare la mente e il corpo vogliono allontanare questo tipo di sensazione quindi io cerco sempre di avvalermi di materiale che possa coinvolgere i bambini e che possa offrire loro un apprendimento ovviamente di tipo non solo efficace ma anche ludico, divertente, coinvolgente quindi creo spesso questo tipo di materiale oggi voglio mostrarti un po' la creazione di questo materiale perché chiaramente per qualcuno può risultare un grossissimo sbattimento ed è vero perché la fotocopia, questo non neghiamocelo è molto più facile da fare nel senso che schiacciando un bottone insomma si stampa allo stesso modo anche per quanto riguarda il libro è già fatto quindi è comodissimo e ripeto non vanno eliminati totalmente questi strumenti però il problema secondo me è un po' più cioè le conseguenze si notano maggiormente di più alla lunga cioè nel lungo termine, nel lungo periodo perché quando poi ti accorgi che il bambino magari non ha appreso un determinato tipo di passaggio che magari in matematico o in italiano può essere fondamentale per le abilità future che poi dovrà sviluppare è lì un bel problema quindi aver insegnato ad un bambino in modo tale che gli resti impresso nella testa secondo me ha un grossissimo vantaggio quindi è vero che ci potrebbe essere uno sbattimento iniziale anche se questo sbattimento iniziale si può ridurre dal momento in cui magari usufruisci di materiale che è già stato creato quindi nel mio caso ad esempio io creo del materiale che trovate anche ad esempio nello shop poi mano a mano lo rimpolpo mano a mano sempre di materiali nuovi e potete trovare appunto dei materiali che sono già fatti è chiaro che se li preparate voi sono il più personalizzati possibili nel mio caso dovendo lavorare appunto cioè fa parte del mio lavoro perché come sapete sono terapista comportamentale e insegnante freelance sono un insegnante che ha preso sui generis che ha preso un po' una via diversa da quella della didattica scolastica classica io ho insegnato anche a scuola ma adesso fondando Van Education ho insomma tutta una serie di laboratori e servizi e attività in cui offro un tipo di didattica un po' più alternativa come dicevo prima basata maggiormente sull'attivismo pedagogico sul coinvolgimento del bambino quindi in sostanza cosa faccio? io creo del materiale e lo metto anche a disposizione quindi nel tuo caso se non sei molto pratica o pratico nell'utilizzare il pc per poter creare i materiali per assemblarli attraverso immagini che io consiglio spesso l'accostamento tra l'immagine reale e magari l'immagine più potrebbe essere una grafica o più stilizzata in modo tale che il bambino possa generalizzare quindi non mostrare soltanto non so, ad esempio una fragola stampata in 2D ma anche ad esempio avere degli oggetti reali oppure delle immagini nitide fatte molto bene che presentino ad esempio il frutto della fragola in maniera più dettagliata quindi io preparo determinati tipi di immagini e di file e di grafiche e se tu non sei in realtà molto capace col pc secondo me non è un grosso limite nel senso che oltre al fatto che esistono appunto anche dei materiali, dei manuali che offrono già di loro un tipo di supporto almeno visivo una cosa che io faccio molto è sfruttare del materiale ad esempio di vecchi giochi magari anche giochi nuovi che in realtà lasciate lì nella scatola non aiutano in realtà molto il bambino a assemblare i pezzi fare determinati tipi di giochi parliamo poi a seconda del bambino chiaramente se parliamo di disabilità o di un bambino comunque piccolo uno più grande senza disabilità o particolari difficoltà può tranquillamente fare dei giochi didattici che arrivano allo stesso scopo giochi ad esempio sulle tabelline giochi sulle parole sul lessico ce ne sono moltissimi molto validi e secondo me è bellissimo giocare con degli strumenti che ci permettono di imparare ma allo stesso tempo di divertirci qualora invece fosse più difficile per un bambino con disabilità con difficoltà o piccolino poter usufruire di determinati tipi di giochi la cosa migliore è utilizzare i pezzi di questi giochi e assemblarli magari in maniera intuitiva come ad esempio mettendo due pagine magari bianche neutre senza sfondo attaccare delle strisce di velcro e da una parte solitamente a sinistra attaccare i pezzi mancanti e a destra invece avere la matrice o comunque il foglio che si andrà poi a completare generalmente con questo tipo di lavoro il bambino anche in maniera un po' più intuitiva una volta che ha capito ad esempio come farne uno poi può fare tutti gli altri quindi si può adattare lo stesso gioco che sia italiano matematica scienze quindi una volta capito il meccanismo cosa devo fare? devo abbinare? devo associare? devo collegare? devo contare? devo leggere? quindi una volta che io capisco che cosa devo fare lo posso poi applicare a tutti gli altri esercizi io ho constatato quindi ve lo confermo quindi lo condivido proprio perché lo so ho constatato che i bambini tutti da quelli in terapia con disabilità anche gravi ad altri miei studenti tutti quanti hanno raggiunto ottimi risultati con questo tipo di didattica creativa ritorno al discorso dello sbattimento sì un po' di sbattimento c'è sicuro io ad esempio per creare questi due raccoglitori ho impiegato circa 7-8 ore in realtà suddivise perché ho fatto 2 ore 2 ore 2 ore insomma più o meno ho suddiviso anche durante la settimana anche durante i momenti a volte anche nel senso alcune cose si possono preparare in 4-4-8 anche con i bambini stessi mentre loro stanno facendo magari qualcos'altro o ci stanno aiutando ad esempio a colorare un determinato tipo di disegno a ritagliare e via dicendo anzi lì si può coinvolgere ancora meglio però è vero che richiede del tempo ma ripeto quel tempo viene assolutamente riacquistato nel momento in cui io vedo che il bambino impara anche più velocemente e non c'è bisogno di dover riprendere quel determinato argomento mille mille volte anche perché quel materiale lì può essere riutilizzato come appunto sorta di allenamento perciò io posso andare avanti col materiale oppure le stesse immagini le stesse cose le posso riutilizzare aumentando la difficoltà aumentando il campo di scelta quindi se prima facevo scegliere tre immagini poi posso fare un campo da dieci e far scegliere tra dieci immagini posso sempre aumentare la difficoltà dell'esercizio oppure posso riutilizzare le immagini anche per altre cose ad esempio mi è capitato utilizzare le immagini sia per quanto riguardava delle categorie ma anche per quanto riguardava ad esempio in scienze potevo utilizzare anche le immagini della frutta e della verdura per altri scopi o anche degli animali potrei aver fatto degli esercizi per la scrittura con gli animali ma potrei anche utilizzare le stesse immagini degli animali in scienze quindi il materiale secondo me è prezioso io ricordo che c'era una mamma una famiglia insomma che seguivo che aveva un intero scaffale di materiali meravigliosi che poi puntualmente arrivati ad un certo punto riutilizzava e non doveva neanche più prepararli quindi era bellissimo perché aveva tantissimi materiali che potevano essere sfruttati in altri modi ad esempio quando la bambina o il bambino in questione non non parlava e non scriveva potevano essere utilizzate le immagini per un determinato scopo man mano con il tempo quando ha imparato a scrivere a leggere le stesse immagini o lo stesso materiale lo abbiamo utilizzato più avanti peraltro quindi secondo me non è tempo sprecato anzi e prepararli in realtà poi una volta che si entra nel meccanismo e che si ha idea soprattutto dell'obiettivo di cosa si vuole insegnare è abbastanza facile perché i materiali poi alla fine sono sempre gli stessi quindi si richiedono dei fogli classificati generalmente o dei cartoncini o anche io utilizzo diversi tipi di materiali l'importante è che siano resistenti allo strappo quindi il foglio da solo no perché se ci attacco il velcro in realtà strappando rischio di strappare anche il foglio poi serve molto velcro in realtà il velcro si può utilizzare si può acquistare tranquillamente anche online su Amazon o su altri siti insomma che vendono velcro e si possono comprare sia a rotoli ma anche invece a bollini io li chiamo bollini a bottoni che facilitano diciamo il discorso del tagliare quindi sicuramente i pallini i bottoni quelli già ritagliati sono comodissimi bottoni pallini o quadratini a seconda di quello che si trova ovviamente forbici bucatrice allora la plastificatrice in realtà è una spesa secondo me irrisoria nel momento in cui si fa homeschooling si fa terapia si fanno esercizi a casa quindi la questione a volta ti dura praticamente per sempre ha un costo base tra i 20 25 30 euro secondo me se ne trovano anche di più economiche però in una media 25 euro più o meno ci sta i fogli ce ne sono diversi tipi però la 4 se non ricordo male 100 fogli costano 9,90 euro quindi insomma non è una spesa grossa da questo punto di vista idem il velcro non sono insomma costi esagerati è tutto materiale che poi si può andare ad alternare ma anche a sostituire a libri costosi a un sacco di quaderni raccoglitori e molto altro quindi dipende ovviamente sempre dall'utilizzo che se ne fa da quanto si conservano bene anche perché sei ben plastificati in realtà quei materiali si possono utilizzare per sempre quindi se sei cioè se lavori come terapista come insegnante o fai homeschooling questi materiali possono davvero essere sfruttati anche successivamente la creazione non richiede particolari abilità o capacità se non di assemblare un po' i vari pezzi io generalmente cosa faccio cerco prima di farmi una sorta di scaletta o comunque butto giù delle idee per quanto riguarda l'obiettivo che voglio raggiungere e cerco di trovare il modo più accattivante per poter fare quel tipo di attività sulla base anche dei materiali che ho non sempre devo andarli ad acquistare o devo per forza crearli da zero ripeto come dicevamo prima quindi io creo diciamo delle liste di esercizi che voglio proporre e sulla base del materiale che ho li assemblo insieme cerco di farne magari o delle copie oppure con la scusa del velcro che attacco e stacco cerco di non proporle mai nello stesso ordine o nella stessa maniera perché se no poi il bambino potrebbe impararlo a memoria e quando ha acquisito quella determinata abilità o le sposto in agende dove si possono poi allenare oppure a mia volta cerco di creare altri esercizi che possano magari richiedere una cosa inversa rispetto a quella che ho chiesto precedentemente quindi cerco sempre un po' di variare cerco sempre di avere anche delle scorte in modo tale che appunto una volta acquisiti io possa sostituire e nulla quindi questo è quello che generalmente faccio si possono creare questi tipi di materiali veramente per tutte le materie io cerco poi di alternare come dicevo prima la parte cartacea ma anche la parte digitale quindi secondo me un apprendimento a tutto tondo avviene quando si fanno tanti quando cioè si offrono tanti tipi di strumenti e diverse metodologie che possono comunque poi raggiungere raggiungere lo stesso risultato diciamo così io spero di avervi un po' ispirato circa tutto il materiale che ho creato come l'ho creato vi ho fatto vedere alcuni passaggi ripeto che alcuni pdf in realtà li trovate anche sul sito di vaneducation.me nella sezione shop ma anche alcune cose le trovate anche nella sezione free dove regalo appunto pdf e diversi tipi di materiali gli stessi materiali che in realtà voi vedete in 2d come scheda li potete tranquillamente insomma trasformare in materiale creativo con attacca stacca col velcro perché comunque ritagliando diversi tipi io a volte ritaglio anche vecchissimi libri o giornali o cose che mi possono servire una volta che sono plastificate fanno il loro lavoro e quindi io cerco sempre di alternare anche i vari materiali di sprecare il meno possibile perché sicuramente anche plastificare comporta un certo spreco ma come tutto ovviamente noi dobbiamo fare scuola abbiamo bisogno di materiali per i nostri bambini abbiamo bisogno di insegnare loro in maniera insomma anche coinvolgente avendo dei risultati buoni se non ottimi e quindi un minimo di intervento insomma è richiesto quindi io spero di avervi ispirato spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate questo tipo di materiale se non lo utilizzavate e da oggi in poi invece super ispirati andrete a comprare tutto questo materiale e a iniziare a tagliare incollare e plastificare fatemi sapere e se non sei iscritto al canale youtube Van Education ti invito a farlo a lasciare un like e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao